Turismo lento, cammini religiosi, percorsi di storia e archeologia, oltre il mare, per captare quella domanda turistica incuriosita dall'unicità dell'isola e non solo dalle sue meravigliose spiagge. Termina con un bilancio positivo, la fiera milanese fa la cosa giusta, dove la regione si è presentata col fascino di una terra capace di offrire esperienze e non solo vacanze, come quelle che si possono vivere lungo le vie percorse nel corso dei secoli dei pilligrini. Nel padiglione, che ospitava le ricchezze della Sardegna, dopo il saluto del ministro del turismo Daniela Santanchè, le parole dell'assessore al turismo Gianni Chessa. A passo lento in Sardegna, ma stiamo dando un'accelerata su un'offerta turistica che mancava alla Sardegna per allungare la stagione, per andare oltre il mare e non solo mare. Il passo lento dei cammini religiosi è un passo spirituale, un'offerta turistica dei cammini religiosi che darà una grande opportunità di vivere i 377 comuni della Sardegna, di vivere una Sardegna autentica e vera, una Sardegna che promuove unicità. Dal 3 al 7 ottobre prossimo, il Noi Camminiamo in Sardegna sarà nell'isola, con gli esperti del settore provenienti da tutta Europa. Mille chilometri per un turismo lento e sostenibile attraverso i cammini di Santa Barbara, Santujacu, San Giorgio Vescovo, Sant'Effisio, Cento Torri, Via dei Santuari, il percorso francescano e gli itinerari che portano alle destinazioni di pellegrinaggio. Tra i comuni pronti a far vivere un'esperienza suggestiva si candida anche il luogo santo, paese medievale dalle profonde radici religiose, meta ogni anno di tantissimi turisti desiderosi di scoprire l'anima dell'isola.